Benvenuti a Brad Pitt, abbiamo anche la musica, è coperto da diritti, è lui Elvis, vi faccio un logo, oggi una puntata frizzante, scoppiettante, oggi parliamo di tragedie legate al mondo della grafica, esattamente, abbiamo un sacco di domande, lasciamo andare, lasciamo andare, lasciamo andare? Ma saperlo, l'ora hai scelto un'altra canzone, ma scusa adesso stai calma, allora, abbiamo un sacco di domande per Elisabetta, che oggi rappresenta l'anima di tutti i grafici, attanto qui non si sente, tu però ti rincoglionisci, l'anima di tutti i grafici presenti sul pianeta terraqueo, esatto, fai vedere il pianeta terraqueo, una puntata speciale che esce un po' esula, usiamo la parola difficile, abbastanza dal programma Brad Pitt, che recupereremo sicuramente nei prossimi giorni, certamente, ma questo lo dobbiamo togliere che mi distraio, non mettete la musica grafici perché si incarna, allora oggi facciamo un sacco di domande, oggi è come un po' marzulliana come puntata Elisabetta. Certo, mi hai anticipata proprio, no ragazzi, diciamocela tutta, oggi non avevo voglia né di mettere le cuffie né di fare un programma strutturato perché non ci avevo voglia, quindi sarà una cosa un po' più dinamica, un po' più discorsiva, un po' più come ci piace a noi, anche se non ci sta guardando nessuno in questo momento, ma non fa niente, non fa niente, una reazione, ti ringrazio, non so di chi sia però, non si vede. Attenzione, ciao Vincenzo, ciao Vincenzo, grazie Vincenzo, mi hai sollevata da un momento di sconforto, però mi è andata via la voce, posso fare il programma con questa voce no, è tornata alla mia voce normale. Benissimo, allora. Sempre di più. Ti tolgo gli ascolti, se no vai in paranoia. Ti tolgo le vanity KPI. Certamente. Allora, partiamo subito con le domande da non fare mai a un grafico. Che poi è il tema della puntata. puntata. Esatto, cinque cose che avresti... e poi ne hai mai chiesto, quello è il titolo. Intanto Elvis va sotto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ci salutiamo dei ragazzi. Che gentili. Allora, partiamo dal quesito che mi sono sempre posto e sul quale sono stato sempre richiamato da Elisabetta. Solo da lei, perché gli altri diciamo che non ne frega un cazzo, diciamoci la verità. Perché si dice il font e non la font? Allora ragazzi. Allora, volevo spiegarlo da anni, prego. Ecco, innanzitutto diciamoci, si dice il font appunto. Perché? Perché? Perché questo il font, quindi al maschile, ha origine appunto dall'inglese. Perché quando noi andiamo a tradurre una parola inglese in italiano, usiamo per convenzione il maschile. Quindi se in inglese è the font, in italiano sarà il font. Ed è semplice, va tutto liscio. Spiegano in inglese questa cosa adesso. Ok, so... Non mi ricordo la frase che avevo usato, ma giuro che lo so fare. Se vuoi anche in francese te lo so fare. Fallo in francese, vai. So, con… non, toc. Prendete comment? On da… Non, tradurre, non, non, esattamente dire ni come c'itro. Traduire. Traduire. On da traduire l'angola in italiano. E quando lo facciamo, dobbiamo mettere le mot al masculine, non al femminile. Quindi è il font e non la font, come si dice in francese. In francese, è la font. Diciamo in inglese adesso. If we have to translate an English word in Italian, you have to put the male, the male form of the word, of the English word. So it's il font. So it's il font. E te lo finisci lì. Ecco, benissimo. Madonna, c'hai ragione, fa un caldo, ragazzi. Qua c'è una stufetta di ultima tecnologia, però fa un caldo terrificante. Sta rimbalzando un caldo a 2000 gradi. Ecco, spegni la stufetta così. Allora, bene, brava. L'hai detto in più lingue. In cinese ce l'abbiamo. No. Allora, andiamo avanti. Allora, questa è una domanda da un milione di dollari. Teniti pronta. Sono pronta. Ecco, come fai a capire se un logo fa schifo o meno? Allora, questa è una domanda che Nicola ha voluto inserire. Perché, appunto, ignorante nella materia. Esatto. Ma diam bene che ignorante significa ignorare, quindi non sapere. Non ti sto offendendo sia mai. Tanto non sono uno che se la prende. Bene. Non che poi io ne sappia tanto, ma per quel che ne so, beh, devi considerare diversi parametri. Quali, innanzitutto, una cosa che però è un po' per l'occhio più esperto, devi capire se effettivamente quel logo si addice all'identità che va a rappresentare. Perché spesso e volentieri magari un logo può sembrare anche piacevole alla vista, ma se non si adatta bene all'azienda che vuole rappresentare, è comunque un logo sbagliato. Poi, bisogna anche valutare l'equilibrio generale a livello di forme e di carattere scelto, soprattutto. Il font. Bravo. Per esempio, se vogliamo proprio fare un esempio concreto, che vediamo anche inserito nel contesto proprio perugino, la scuola di musica, quella che anche Rossella frequenta, giusto? Salutiamo Rossella. Il conservatorio, volevi dire. Il conservatorio. Ha come fonte del logo il Comic Sans. Ma santo, ma da cielo. Santo Dio benedetto. Ecco, per esempio, anche la scelta del fonte è abbastanza importante. Insomma, diciamo che tutto si deve coordinare. Se io devo uscire, abbino i colori, abbino la capigliatura, lo stesso devi fare con un fonte. Lo faccio anche io quando esco. Soprattutto la capigliatura. La capigliatura in particolare. Quindi, insomma, deve essere equilibrato. Insomma, ci sono diversi parametri da considerare, ma bisognerebbe analizzare caso per caso. E poi sì, anche la precisione delle linee e diverse cose che bisogna andare a considerare. Per esempio, i colori, qualcosa sui colori. Raccontaci qualcosa sui colori. Ma non esiste un colore sbagliato per un logo, in realtà. Nemmeno un abbinamento di colori troppo sbagliato. Anche quelli che noi diciamo essere sbagliati come abbinamenti, in realtà, possono risultare interessanti. Per esempio, il blu e il nero, spesso e volentieri ti dicono, anche quando ti vesti, di non metterli. Perché sta male. Ma dipende dal tipo di blu, dal tipo di nero. Mi metto il blu e il nero da quando sono bambino. E infatti, e si vede, e si vede. No, comunque bisogna considerare, appunto, soprattutto con il... Bisogna sempre tenere presente che il logo va a rappresentare un'identità. Quindi, se il colore si sposa all'identità, beh, venga. Spesso e volentieri, invece, è scelto solo per gusto personale. E si vede. E si vede. Come nel mio caso. No, il mio è per pigrizia, non è neanche gusto personale. E si vede. E si vede. Allora, cosa sono le cinque cose che fanno, cinque anche di più, o di meno, se non ne trovo, non so, che fanno investire un grafico nel rapporto con il cliente o con, diciamo, l'ignoranza generale della materia? Allora. Allora, siccome questa è una puntata un po' sprint, un po' dinamica, così io le risposte non me le sono preparate. Quindi andrò a ragionare anche con voi, pubblico a casa, che non posso vedere perché Nicola ha messo una finestra di fronte. Abbiamo, abbiamo qualcuno che ci segue. Abbiamo qualcuno che ci segue. Ringraziamo. Chi è che ci ha messo? Bianca, c'è Bianca. Ciao, Bianca. Ciao, Bianca. Bianca, seguici. Allora, allora, le cose che fanno incazzare? Beh, innanzitutto, soprattutto, quando il cliente va a sminuire il tuo lavoro dicendo che ci metti poco tempo a farlo. E anche che ti diverti. Che è vero, che è vero. E che ti diverti anche, verissimo. Pem, pem, pem. No, in realtà quello fa molto arrabbiare. Perché sì che io ringrazio di fare un lavoro creativo, ma la creatività è una bella palla al piede. Cioè, non è divertente la creatività, per quanto si possa anche pensare. che, cioè, a livello mentale è molto stressante. Quindi non è una cosa da sminuire. Poi, che altro? Beh, appunto, quando sottovalutano il tuo lavoro, anche a livello di costo, che dicono che magari chiedi troppo, che tu ci metti poco e ti diverti. Infatti è così, chiedi troppo. Esatto. E diciamo che è un po' tutto correlato. Poi, che altro? Beh, beh, beh. Il più grosso, quello fa un sacco arrabbiare. Tipo quando arrivano e vedono una locandina tutta bella, precisa, e dico, fammi la via più grossa. Ancora più grossa. E quindi praticamente il manifesto diventa solo un logo e la via, l'indirizzo dell'azienda. Ah, la via, l'indirizzo. Eh sì! E tutto il resto un po' se ne va. Se ne va così. E poi che altro? Perché tu non guardi ai particolari importanti come la via? No, ma sono sicuramente importanti. Però su un 6x3 anche una via piccolina così la vedi. E' uno più grosso, più grosso. Perché gli devi spiegare che si vede grande poi. Loro non ci arrivano. Lo vedono nel monitor. Eh, ma non ci arrivano comunque. Poi, appunto, i diversi... Allora, qua cito anche una frase del buon Luigi Mameli, lo voglio più giallo, che cita sempre questa frase che gli è stata detta, più giallo. Oppure anche, appunto, vorrei più un tratto a matita. Come mi è stato detto a me. Bello, eh. Però vorrei più un tratto a matita. E tu sei lì. No, non... Insomma, diciamo che una delle cose che fa più arrabbiare in assoluto è il fatto che il cliente non si fidi mai del grafico. Non si fida. Per cui vuole sempre dire la sua, vuole sempre, appunto, andare sopra quello che dice il grafico. E quindi, alla fine, il grafico finisce per fare un lavoro male, come vuole il cliente e non è un lavoro valido. E il cliente va a spendere per un lavoro che non è valido. E quindi è sempre un po'... È difficile trovare qualcuno che si fidi, veramente, di quello che fai. Ma non hai citato la cosa più bella? Quando chiedi il logo e te lo danno. In JPEG? Beh, quello sì, però fortunatamente... No, c'è qualcosa di peggio del JPEG. In DOC. Esatto. Esatto. Ma fortunatamente a me quello non è ancora successo. No, no. No, fortunatamente per ora no, no. Questo è un classicone che mi dicono i grafici. Eh, lo so, però io sono ancora esule da questa... Il logo piccolino dentro un file doc. Lo puoi prendere qui. Sì, sì, sì. Oppure no, succede che ti vieno proprio i loghi piccolini piccolini che sono sgranatissimi e dicono buttaci questo. Tu dici no, no, non posso. No, però al di là di quello no, a livello di loghi inviati non ho mai avuto grossi problemi. Oppure trovalo su internet. Oppure anche il fatto che, Dio, mi! Loro ci mettono magari settimane a risponderti poi arrivano e vogliono tutto subito e tu glielo devi fare senza sovrapprezzo, chiaramente. Ovviamente. E quindi oppure quando tu fornisci un logo ad un cliente lui poi ne fa l'uso che ne fa quindi te lo streccia poi te lo mette lì sopra uno sfondo orribile quindi quelle anche... Attenzione, abbiamo un grafico che commenta. Daniele Giancola che conosco la cosa che mi farà abbiare di più è quando un cliente chiede opinioni sul lavoro che è appena fatto anche a fruttarolo sotto casa. Che cazzo vuol dire anche a fruttarolo sotto casa? Sì, che chiede opinioni a gente che non è del settore. È vero, è vero. Sì, giustamente. Anche con me dicono ma ho conosciuto una che è una grande esperta ha fatto un corso a Milano dicono se è a Milano vuol dire che è una cosa che... Che conta. Se l'ha fatto a Milano vuol dire che lui sa invece sono quelli più ritardati spesso hanno fatto una cosa a Milano. Sono di Milano. Fantastico. Hanno fatto una cosa a Milano e a Milano gli hanno detto. Quello devi anche dire quella centumilanese che fa più Milano. Ha fatto Milano e a Milano gli hanno detto. Io dico ah, se l'ha detto quella di Milano allora cambia il consulente. E poi ecco a proposito di questo che se non erro è una delle domande che verrà più avanti un'altra cosa che fa molto arrabbiare è che tutti si credono grafici. Cioè tu basta che sai usare Canva e sei un grafico. Stai citando Canva che non è per tu. Devi dire paint. Ma no Canva più o meno. No? Speriamo. Cioè lo usi anche tu che non sei un grafico. Esatto. Ma tu non ti spargi per grafico. No, giammai. E c'è gente che lo fa oppure gente appunto i famosi grafici del paesino che fanno appunto delle grafiche davvero ripilanti che non hanno studiato grafica e che chiaramente andranno a guadagnare di te perché purtroppo soprattutto in Italia non c'è educazione dal punto di vista proprio della grafica e quindi un logo brutto e un logo bello sono praticamente la stessa cosa. Questo è un colpo al cuore. Ecco, so che stai morendo dentro. Però qui entriamo nei tecnicismi e vediamo se ci venite incontro. Perché scegliere un logotipo questa cosa l'ho imparata grazie a Elisabetta al posto di un pittogramma e intanto spiega che cazzo è un pittogramma perché non lo sanno tutti neanche io che l'ho scritto. Allora questa è una domanda che ha voluto fare Nicola è molto interessante ma è anche difficile rispondere però ci si prova. Allora un logotipo praticamente è un logo dove vi è il nome dell'azienda semplicemente senza appunto un pittogramma il pittogramma è appunto la parte difficile l'immagine che vedi la parte dove non c'è un testo no il pittogramma deve essere tendenzialmente accompagnato da un testo a meno che non sia riconoscibile come quello della Nike che se vedi la letta sai che è Nike tendenzialmente appunto gli altri logo sono pittogramma più nome dell'azienda però c'è appunto chi sceglie di tenere solo il nome dell'azienda lì dipende tipo Supreme esatto infatti stavo per dire che è soprattutto una scelta delle aziende di moda di fashion perché appunto perché cioè alla fine anche lì devi valutare azienda per azienda identità per identità e valutare qual è la cosa che sta meglio però se vai a pensarci tendenzialmente tutte le case di moda hanno il logotipo e non hanno per esempio un segno che le distingue per esempio Chanel per esempio Giorgio Armani per esempio Supreme Versace Versace tendenzialmente è una cosa che fa molto moda perché è il nome che spinge è il nome è il nome anche perché spesso volentieri tu vai lì e paghi il nome quindi è anche giusto che gli diano rilievo eh questo vale anche che ne so anche per i professionisti di solito quello che fa personal branding gioca molto sul sul logotipo o sul pittogramma adesso stavo ragionando anche così in grandi linee ma dipende dipende chi sei e cosa fai sicuramente un grafico almeno io per quanto riguarda il mio personal branding tendenzialmente quando faccio un restyling del mio logo quando ci lavoro voglio andare ad inserire un pittogramma perché è una cosa che trovo che mi rappresenti di più però appunto devi valutare tu quello che ti rappresenta rappresenta se tu dici io sono questo questo e basta sono pulito sono conciso sono diretto sono così puoi anche usare tranquillamente il logotipo dipende appunto anche dal tuo essere tra l'altro non c'entra niente però mi è venuta in mente una cosa di cui volevo parlare con te e questo mi sembra la sede per farlo prego anche a te è capitato tra le storie di instagram quel tizio che ha fatto un corso di copywriting che fa questa storia ma l'hai visto? spiegamelo eh no c'è questo tizio in questa storia sponsorizzata che dice ho fatto un piccolo corso di copywriting se ti interessa è qui però è una cosa orribile non comparemi ogni mattina alle sette che mi sveglio c'è sto tizio che mi dice sta cosa ma l'hai visto? no non l'ho visto beh ragazzi se qualcuno l'ha visto mi faccia sapere se gli piace a me non piace adesso facciamo un gioco io ti do dei brief e tu sul momento con la tua creatività mi dici come faresti il logo di questa cosa va bene anche se ho caldo lo faccio vai ristorante di sushi target gente con i soldi ma bisogna capire diverse cose prima di fare questo cioè se ha qualcosa che lo distingue io adesso ti lancio delle idee tu mi dici come faresti un logo ecco questa è una cosa che un'idea che può partire solo se una persona che ti grafica ci capisce fuoco perché era per dimostrare che non funziona così allora bar che vende che è specializzato su i cornetti come lo facciamo sto logo allora no ti dico più che fare questo potremmo valutare come si procede per capire come si fa un logo ok dammi un brief ti do un brief produciamo hamburger per i cornetti no allora siamo un no aspetta ce l'ho ce l'ho noi facciamo dei collari che si collegano con una sim e le mettiamo questi collari a delle pecorelle io posso chiamare la pecora e sapere come sta è una start up figo mi immagino tipo una pecora con sopra un po' il segno del wifi no sarebbe carinissimo perché non c'è qualcuno che lo fa io sarei felicissima di fare ma ha già il logo no bello mi piace no beh comunque al di là di questo che è stata un'idea così no però tendenzialmente appunto bisogna innanzitutto capire qual è il target qual è la direzione in cui l'azienda vuole andare perché magari se c'è se vogliono fare un restyling del logo magari è perché vogliono anche cambiare direzione vogliono posizionarsi in un modo diverso siamo una start up siamo una start up ok e beh innanzitutto appunto bisognerebbe parlare con il cliente per capire cosa lo distingue ma in questo caso penso che non ci sia un dubbio nel senso che non è una cosa così così comune io pago e posso sentire la mia pecora belare la chiamo e fa beh e poi ogni anno ti do dei prodotti fatti dalla pecora che tu hai no 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 aspetta però io non ho capito cioè tu chiami la pecora sì e suona risponde come un telefono ma la pecora sceglie se risponderti cioè che ci siamo ormai no risponde in automatico e quindi oppure ma è fatto per i pastori che non vogliono stare a guardare le pecore no tu affitti la pecora tu paghi un tot all'anno e questa pecora poi produrrà un tot di mozzarella formaggi tu ogni anno riceverai a casa una cesta con i prodotti della tua pecora che hai tenuto in vita per tutto l'anno sì ma mi sfugge il motivo per il quale tu dovresti avere il piacere di sentire la tua pecora belare chiamo pecora beh chiamo e sento l'ambiente dove sta la pecora così so ma te convince questa idea? cioè funziona funziona ci sono diverse aziende che lo fanno ah pure? sì vabbè allora cioè il target qual è? il target è gente che ama la natura e prodotti caseari ma come range di età dove siamo? ma penso la mamma anche che può regalare a una figlia che ama le pecorelle pensiamo alle mamme che regalano ai figli la possibilità di chiamare la propria pecorella ok mamma se mi stai guardando io ti voglio bene però per il mio compleanno preferirei qualcos'altro grazie comunque ma ma bisogna valutare una serie di cose sicuramente a livello cromatico se è una cosa che ha a che fare con la natura la terra eccetera chiaramente bisognerà andare a scegliere colori di tipo naturale però siccome c'è anche un connubio con la tecnologia anche lì bisognerebbe fare una riflessione a livello cromatico tecnologia tendenzialmente è il bianco può essere tendenzialmente tecnologia è il bianco quindi insomma bisogna fare una serie di ragionamenti però ci stiamo dilungando troppo su questa cosa hai ragione hai ragione hai ragione basta basta abbiamo chiuso è stato stiamo per lanciare via il podcast anche perché abbiamo parlato 25 minuti di niente hai proprio finito allora ah no vuoi che ti faccia un'altra domanda eh non lo so così di brutto no allora ti faccio un'ultima domanda intanto da dove trai ispirazione o un grafico dacci due suggerimenti allora c'è chi dice che l'ispirazione non esista perché se devi fare un lavoro o devi fare in poco tempo hai poco da cercare l'ispirazione quindi devi fare un lavoro onesto e basta c'è chi dice che non trai ispirazione da nulla e fa le cose io tendenzialmente passo tipo quattro giorni a trarre ispirazione e un giorno poi a fare le cose e tendenzialmente appunto cerchi ispirazione su Instagram molto sulle pagine appunto di loghi piuttosto che di packaging eccetera su Behance e su Pinterest però appunto è un'arma a doppio taglio perché trovi tanta ispirazione ma uno ti deprimi due finisci magari per rischiare di copiare qualcosa e tre appunto finisci per fare qualcosa che non senti veramente tu e dici sì è figo però più o meno è questo chiudiamo con la domanda che secondo me è importante per un imprenditore che a questo punto ci sta seguendo che non sono io che ci sta seguendo ormai da 25 minuti nessuno è improbabile cosa dovrebbe consegnare un grafico serio quando ha finito di fare un logo al cliente finale oddio dipende quello che deve fare il cliente finale perché magari appunto ha bisogno di fare un insegna piuttosto che ha bisogno di fare un logo il logo proprio solo il logo pulito allora un manuale dove spieghi dobbiamo chiedere come non farsi fregare a un allora se tu ti stai rivolgendo a un grafico e hai pagato per un manuale di immagine coordinata quindi non significa solo il logo ma significa anche tutto il percorso del logo e come va utilizzato il logo appunto dovrebbe esserci un percorso storico dove appunto si fa vedere sia il ragionamento sia si fa anche un'analisi sull'azienda dopodiché dovrebbe essere presentato il logo a colori se ci sono i colori negativo positivo e poi andrai appunto a spiegare le regole di utilizzo del logo quindi per esempio non strecciare il logo il logo ce lo puoi avere a colori ce lo puoi avere in negativo quindi praticamente nero su sfondo bianco o no in positivo pardon nero su sfondo bianco o in negativo bianco su sfondo nero perché chiaramente tu il logo lo puoi utilizzare a colori però non sempre per esempio se fai una fotocopia da casa che la fai tendenzialmente in bianco nero è inutile che usi un logo a colori quindi vai a preferire le due versioni poi appunto ci dovranno essere le regole di utilizzo del logo tipo non strecciarlo non mettermelo lì che fa cacare eccetera eccetera poi ci sarà appunto la costruzione del logo quindi che fai vedere che se è un grafico serio l'hai costruito tutto su una griglia bella bellina fatta proprio ad hoc e poi appunto puoi andare a fare una serie di applicativi puoi appunto far vedere come sta il logo su una maglietta come sta il logo su un eventuale insegna a seconda degli applicativi che ti sono stati richiesti secondo me sei stata molto esaustiva e sarà sto sudando sarà una puntata molto sudoriva siamo saliti di 6 gradi in 20 minuti qui dentro ok è stato veramente un sogno aspetta allora io saluto la nonna Nanda nonna Nanda nonna Enni nonno Leo mamma Alessandra papà Lucio Bani Bani e Beatrice mia sorella e poi penso di aver concluso anche i zii le zie tutta la parentela un saluto ai parenti in generale un saluto ai parenti ai parenti va bene grazie a neri parenti questo finale è triste baci baci oddio che caldo ciao ciao chiudì ok